Ma adesso, la prossima è la sedia, come faccio ad alzare questa sedia qua? Non lo so, lasciate 5.000 mi piace per io che alzo sta sedia Non lo so come farò, ma lo farò Ho detto che ce la facevamo Ciao amici, sono l'occhi e bentornati in un nuovo episodio di Roblox Mi avete chiesto questa mappa, è tipo in tantissimi Adesso saluto un po' di persone qui sopra Perché me l'avete chiesto in veramente tantissimi E volevate vedere i miei muscoli Muscoli che ha fatto il papà di Locchino Noi non siamo questi Non lo siamo affatto Non siamo magri così Sono tutte streggiate, sono tutte strettesseme E cosa dobbiamo sollevare all'inizio? Una matita Dobbiamo sollevare una matita Ma chi è questo qui gigantesco? È pieno di giganti Ma guarda quanto sono grandi, mi stanno per schiacciare Per favore non mi schiacciate Non mi schiacciate per favore Sono grandissimi Allora ci andiamo tranquilli Questo sta sollevando elicotteri alto come il cielo Proviamo a sollevare la nostra matita Più uno muscolo Se noi facciamo così diventiamo più forti Ma come? Beh effettivamente siamo veramente 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 magri Io voglio sollevare questo ma è più grande di me Ok ci stiamo ingrandendo? Ci stiamo ingrandendo guardate bene Diventiamo un pelino più grandi ogni volta che solleviamo una matita È bellissimo Aspetta vado in spiaggia a sfoggiare i miei muscoli Dovrei tipo togliermi la maglia Però sapete cosa? Youtube ovviamente non me lo permette di togliermi la maglia Quindi solleviamo la nostra matita Perché non riusciamo a sbloccare un nuovo oggetto Questo c'è un... Cos'hai in mano? Hai una nave! Non mi schiaccia... Ah! Mi stavo per schiacciare... Vai via! Abbiamo raggiunto i muscoli La nostra pelle non può contenere più i nostri muscoli Abbiamo venduto i nostri muscoli Qua possiamo comprare dei nuovi pesi Un bastoncino Ma davvero? Possiamo comprare il bastoncino E abbiamo comprato... Poi possiamo sollevare il mouse Forte! E allora solleviamo il nostro bastoncino adesso Che cosa? Perché mi schiacci? Forte stupido! Basta schiacciarmi Allora solleviamo il nostro piccolo bastoncino Io voglio sollevare un tronco Non un bastoncino Solleviamo il bastoncino Tanto qui... Ma come? Siamo già full Possiamo gridare? Genetica Diventiamo adulti! Sì! Ah ok! Poi possiamo potenziare la nostra capacità Guarda sono già più grande di lui Ci siamo ingranditi Di pochissimo ci siamo... Questo è più grande di me Ho sempre voluto mettermi con una ragazza più grande Ma non così grande! Non così grande! Mamma mia quanto è grande quello! Aiuto! Ah! Quello bisogna stare un po' lontani perché ci schiacciano Vige la regola del più forte qua È un bullo! È un bullo! Bulli! È il bullo della scuola! Aiuto! Ah! Anche lui è un bullo! Ah! I bulli mi vogliono picchiare! Aiuto! Aspetta! Andiamo a vendere i muscoli No! Siamo tornati come prima! Genetica! Diventiamo degli asini! Ma cosa vuol dire la genetica dell'asino? Ah l'asino può trasportare tante cose fortissimo! Questo lo... Ok! Cavallo! Cavallo! Voglio la genetica del coccodrillo Così la nostra pelle diventa resistentissima! Ok! E allora solleviamo il nostro... Ma se tengo premuto funziona? No! Oh! Volevo già usare i programmini Quelli che stai lì tutto il giorno Con il tasto premuto Invece niente! Io un giorno Diventerò il più grande di tutti! E vi schiaccerò come delle mosche! Ma fino ad allora Continuiamo a sollevare I nostri piccoli bastoncini Ciao gamberetto! Sono grande quanto un gamberetto! Sono veramente piccolo! Sono piccolissimo! Ok! Abbiamo venduto un po' di muscoli E adesso Quello... Alza un copertore quello! Allora Andiamo a comprare il mouse Finalmente E adesso possiamo alzare Ho due mouse bellissimi della Logitech Quindi posso Allenarmi anche qua Nella vita reale Si sta facendo sentire eh Guardate È veramente Veramente pesante questo mouse Cavolo! Non pensavo fosse così grande Voglio sollevare l'acqua! Io lo facevo da piccolo Per diventare più muscoloso E battere i bulli della mia scuola Guarda Guarda Devo sollevare Il mouse Ma cos'è? Quello c'è il tronco! Io voglio il tronco! Quello ha una batteria completa Ah! Ah! Aiuto! No qua non sono al sicuro Aiuto! Aspetta Devo scappare Devo scappare Voglio prendere l'acqua Ok? Adesso possiamo prenderla Aspetta eh Andiamo a vendere tutto Ok Andiamo a prendere l'acqua Andiamo a prendere l'acqua 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 Ok Prisi Acqua Compra Sì! E adesso c'è la palla da calcio Allora L'acqua Ecco qua Dove è la bottiglietta d'acqua? Togliamo la marca Perché non vogliamo fare pubblicità gratis A nessuno Ma sono morto! Tanto quel green skin è bellissimo Perché Ah! Anche il tappo è verde Quindi anche il tappo è trasparente Se volete anche voi un green skin bellissimo così è sotto in descrizione Bellissimo Ok Puoi fare cose come così E far diventare una bottiglietta d'acqua trasparente Che già è trasparente Ma diventa più trasparente ancora Solo a bere Sono diventato più forte Veramente Sì Stiamo decisamente Diventando Più forti Sì 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 Lo sento Lo sento E allora solleviamo e diventiamo sempre più grandi Abbiamo già fatto molti progressi Maurizio Merluzzo sarebbe fiero di me Vero Maurizio? Guardate il mio zainetto quanto sta diventando imponente Ma la mia testa rimane comunque piccola Non va bene Dobbiamo ingrandirci la testa Quindi Abbiamo livellato Ok Perché non posso sollevare troppo Perché la mia vita si abbassa Perché faccio fatica La bottiglietta Da mezzo litro È pesante Voi non lo sapete Ma cos'è sta cosa? Perché sono tutte così grandi? Voglio essere anch'io così grande Guardate sono uno skinny Voglio essere più grande Uffa Vendiamo No Sono ridiventato minuscolo Vabbè Tanto noi diventiamo Ehi tu Cosa vuoi? Non saltarmi addosso Guarda ti prendo a pug Ti prendo a pug Guarda che ti prendo a pugna Ti ammazzo Ok Stavo scherzando Andiamo dall'altra parte adesso Non voglio più andare Non voglio più andare lì Mi ha fatto paura Era gigantesco Cioè era piccolo come me Però non era tutto fatto di magma Metallo così Adesso Ho scoperto Che tipo Più picchiamo le persone Più diventiamo cattivi Infatti vedete che noi siamo neutrali Però quello di prima era un bullo Ah questo è un bullo Vai via da me Ti ammazzo È brutto stupido bullo Ecco qua Ha E adesso ti calpesto pure Pum Oh mamma mia Aspetta Ah sei un bullo tu eh Sei un bullo Ti uccido Ti uccido Anche a te Brutti stupidi Ah no Stavo scherzando Compriamo la bottiglia Dobbiamo prendere la bottiglia Siamo tornati Con la bottiglia È identica È la stessa bottiglia È la sollevia Ma diventiamo più forti anche nella realtà Sì l'avete capito il concetto di questo video Dobbiamo diventare forti su Roblox E forti anche nella realtà Ah Ok Allenamento Fatto Sono tutti quelli che ho accettato Dopo accetto tre persone Mi raccomando Scrivete qui sotto il vostro nome di Roblox Così che se vi vedi in partita Mi stai schiacciando Ti tolgo dagli amici Basta Ti tolgo dagli amici Scherzando ovviamente Non tolgo nessuno Vai via Via da me Via via Si sta ingrandendo più lo zaino che noi Un libro Un libro di matematica È bella pesante Matematica È vero La matematica è bella pesante E allora siamo Un libro di matematica Che ci fa i muscoli nel cervello Quindi si ingrandirà la testa Ho un fumetto di Spider-Man Secondo me è la stessa cosa Sì 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 Effettivamente È molto faticoso Sì 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 Ok Cos'è questa cosa nera? Cos'è? Ancora Cronos Cosa sta facendo? Aiuto Ragazzi ho paura Andatevi da me Chi è che mi sta picchiando? Io vi schiaccio eh Moscerini Vi uccido Boom 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 Via Via Andate via Si sta rompendo il mouse a fare sta cosa Meno male che ce n'ho due L'avete visto prima Ma quanto è grande lo zainetto? Ma la mia testa rimane piccola Ma perché? Non ha senso La chitarra La chitarra ce l'ho La chitarra ce l'ho Però è un po' pesantina ad alzare Così ma va bene Chi uccide l'occhio lo prendo a schiaffi Dalla mattina alla sera Grazie mille per difendermi Grazie Come ti chiami? Non riesco a leggere il nome Giulia Grandissima Giulia VGF Grazie Allora queste sono le mie due Guardate il corpo Diventate un pochino più grandi Perché così non potete difendere nessuno Guardate quelli giganteschi Difendetemi Forza Qui ho tutta la mia gang Diventeremo grandissime Allora Gli rispondo a Puffina Si ti vedo Ma sei piccolina Ah Mi ha difeso veramente Io stavo scrivendo Quello mi ha iniziato a prendere a pugni Mi ha difeso Grazie Giulia Per difend... Difendermi Non riesco ad uscire Ci stanno fulminando Gli dedono limpo Chitarra Voglio la chitarra Qua c'è dopo la chitarra La sedia Come faccio ad alzare sta sedia Ditemi come faccio ad alzare sta sedia Adesso dobbiamo alzare la chitarra Vado a prendere la chitarra Basta uccidermi Sto diventando sempre più forte Ragazzi è pesantissima Ciao Sto veramente diventando più forte Solamente sul braccio destro Però vabbè Sto veramente... Ma infatti In sto gioco dovremmo avere tipo il braccio Destro gigante 300.000 volte Mi fa veramente male il braccio destro A parte che sto continuando a cliccare all'infinito E quindi già mi fa male solo per il click Poi mi fa male anche perché sto continuando solo le varie cose All'inizio era una matita Poi siamo passati a una chitarra Una bottiglia d'acqua Va bene Ma adesso la prossima è la sedia Come faccio ad alzare questa sedia qua Non lo so Lasciate 5000 mi piace per Per io che alzo sta sedia Non lo so come farò Ma lo farò Abbiamo abbastanza soldi Per comprare la sedia È arrivato il momento Forse è arrivato il momento di concludere questo video Però voi volevate vedere io che alzavo la sedia Fatemi alzare qua 62 muscoli Noi ci proveremo Alzeremo questa sedia qui Con un braccio Da dove la prendo? Cioè è una cosa un po' strana prendere la sedia Sì è ah 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 bella a assente a Ho detto che ce la facevamo Ok Ce la stiamo facendo Basta Ho fatto una volta Basta Se questo video vi è piaciuto perché abbiamo alzato Una sedia Guardate lui la prendeva da lì sotto Potevo seguire il suo consiglio Potevo prenderla anche io da qui sotto Lasciate 5 video di piaggio perché ce l'abbiamo fatta Finalmente Ci vedremo nel prossimo episodio di un altro lifting simulator Perché dobbiamo diventare grandi come quelli là Lo so che oggi abbiamo fatto poco Ma il mio braccio ha fatto tanto Diciamo E manca ancora stasera E anche tutto Ciao